amici di extreme hardware benvenuti a questo video unboxing quest'oggi vi parliamo della elephant explorer una action camera proveniente dalla cina che si configura come un prodotto di tipologia entry level a livello di prezzo ma piuttosto interessante per quanto riguarda le caratteristiche tecniche prima di aprire la confezione vi facciamo vedere velocemente la scatola andiamo subito sul retro dove ci sono le specifiche tecniche dunque se riusciamo a mettere leggermente più a fuoco come vedete abbiamo specifiche piuttosto classiche in particolare resistenza all'immersione sino a 30 metri poiché questa cam è dotata del classico case in policarbonato c'è l'angolo divisore da 170 gradi messa a fuoco da 12 centimetri ad infinito ci sono poi varie tipologie di connessioni hdmi usb memoria ovviamente espandibile tramite micro sd sino a 64 giga display sul sul retro da due pollici batteria da 1050 miliampere ora come sostanzialmente tutte le altre cam presenti sul mercato dimensioni compatte del tutto analoghe rispetto a quelle di prodotti come per esempio le sj cam a livello poi di connettività abbiamo ancora la possibilità di sfruttare il wifi per controllare in remoto la cam attraverso l'app dedicata per android o ios per quanto riguarda poi la registrazione video cioè la caratteristica fondamentale della cam c'è la possibilità di registrare a 720p in 30 60 o 120 fps 1080p quindi full hd 60 o 30 fps 2k 30 fps 4k 15 fps il formato di registrazione mp4 con codec h264 per quanto riguarda lo scatto di fotografie la risoluzione reale del sensore è di 4 megapixel tutte le risoluzioni che vedete elencate qui superiore alle 4 megapixel sono sono ottenute tramite interpolazione livello appunto software ci sono varie modalità che andrò ad encarvi più avanti insomma nel complesso come vedete le caratteristiche tecniche sono di livello medio basso medio in quanto si comunque si può andare oltre il full hd a livello di risoluzione basso perché appunto il frame rate non è particolarmente elevato mettiamo un attimo da parte la cam la vedremo dopo ma andiamo velocemente invece a vedere quelli che sono gli accessori come sapete con quasi tutte le cam provenienti dall'oriente sono già inclusi sostanzialmente tutti gli accessori necessari queste sono delle cinghiette per fissare i supporti della cam per esempio a un casco da bici poi ci sono un paio di supporti adesivi per esempio caschi da moto o da sci ci sono vari bracket angolari o meno supporti per cavalletto qui ancora altri bracket con viti un altro bracket c'è il supporto da manubrio che è utile per le moto per le bici c'è la cornice sulla quale fissare la cam nel caso si voglia utilizzare senza case sul cavalletto la si può anche fissare per esempio alla maglia o alla giacca tramite questa clip ci sono poi altri due pad adesivi con una cinghietta in metallo un altro supporto ad incastro che va utilizzato per esempio con questi supporti adesivi c'è uno sportellino di ricambio per il case c'è il cavetto usb ci sono alcune fascette in plastica il panno per pulire il display e la manualistica che dovrebbe essere in inglese non in italiano esatto come vedete abbastanza esauriente anche rispetto ad alcune altre cam che abbiamo visto in passato però appunto tutto in inglese andando a vedere velocemente la cam vera e propria come vi ho detto il case è in policarbonato quello classico che siamo abituati a vedere su quasi tutti i prodotti cinesi ecco come vedete qui c'è un ulteriore supporto il case è quello classico non è nella versione più recente in quanto i pulsanti sono ancora quelli vecchio stile quindi un pochettino duri da premere anche il meccanismo di apertura è quello in vecchio stile per il resto ovviamente lo standard di attacco è quello compatibile con tutti gli accessori gopro l'apertura si effettua tramite questo pulsante lo si sposta leggermente a destra ecco si apre così le dimensioni della cam sono molto compatte del tutto simili a prodotti come per esempio le SJ cam molti in europa infatti hanno cominciato a conoscere le cam cinesi tramite la SJ 4000 questo prodotto appunto non introduce niente di nuovo a livello per lo meno estetico andiamo a vedere per quanto riguarda invece il firmware se il produttore ha lavorato bene continuando un attimo prima di passare al firmware la descrizione sempre a livello estetico costruttivo ovviamente tutta plastica i pulsanti sono quelli tradizionali sul frontale il pulsante di accensione qui sopra c'è il pulsante di conferma comunque il pulsante di avvio registrazione scatto i pulsanti per muoversi verso l'alto verso il basso sono sulla destra mantenendo il pulsante di su insomma il pulsante su premuto per qualche secondo si attiva anche il wifi qui c'è lo speaker ci sono c'è il microfono ci sono due led due posti sul retro e uno posto appunto qua in alto non ci sono led frontali peccato perché potevano essere utili andando a vedere un attimo il firmware a livello software io avevo già acceso la cam devo dire che non è non è fatto male anzi abbiamo visto cam progettate peggio certamente non ci si può aspettare un software particolarmente completo e ottimizzato in ogni caso con il pulsante frontale possiamo spostarci tra la modalità classica di registrazione video quella scatto fotografico abbiamo poi la modalità slow motion in questo caso abbiamo impostato 720p a 120 fps c'è la galleria qui non abbiamo nessuna sd inserita e poi ci sono le impostazioni andiamo velocemente a vedere le impostazioni purtroppo si legge ben poco dello schermo di persona comunque lo schermo è perfettamente leggibile e la scelta di colore che non è particolarmente felice comunque possiamo decidere appunto per la risoluzione possiamo decidere se registrare o meno il suono o l'audio possiamo attivare la funzionalità timelapse oppure quella di registrazione in loop quindi ogni tot minuti verrà tagliato il video e si riavvira la registrazione e possiamo decidere qual è la modalità predefinita per lo slow motion spostandosi ancora abbiamo le impostazioni relative alla fotografia quindi risoluzione stampa o meno del tempo, fotografia automatica oppure questa modalità che si chiama drama shot che sinceramente non so cosa sia la dovrò provare e vi renderò poi conto nella recensione completa spostandoci sulle impostazioni vere e proprie d'immagine possiamo regolare l'esposizione il bilanciamento del bianco, ruotare l'immagine in caso in cui dovessimo attaccare all'ingiù appunto la cam possiamo attivare wifi, possiamo decidere la frequenza di aggiornamento dello schermo attivare o meno i led e varie impostazioni per esempio per il risparmio energetico possiamo poi scegliere la lingua dei menu un attimo uscito ecco qua lingua dei menu tra inglese e varie altre lingue sono parecche, c'è anche l'italiano io però tendo a mantenere l'inglese preimpostato in quanto è abbastanza accurato a livello di di termini presenti nel menu non sempre le traduzioni sono ben fatte possiamo formattare l'Sd ripristinare le impostazioni predefinite o vedere la versione del firmware oltre a questo si esce semplicemente delle impostazioni come vedete appunto il firmware secondo me non è malfatto certo non è completissimo, non abbiamo un'infinità di controlli ma non è nemmeno il peggiore che abbiamo mai visto per questo unboxing è tutto vi diamo appuntamento a fra qualche giorno in modo che possiate visionare la recensione completa e i video di prova grazie a tutti